Siamo in epoca di digitalizzazione per tanti servizi, per cercare di convogliarli in un unico contenitore è nato il cassetto digitale. Provi a spiegare cos'è in poche parole il cassetto digitale. È un servizio digitale molto importante per le imprese, messo a disposizione dalla Camera di Commercio gratuitamente, ecco questo è il primo punto da sottolineare, attraverso il quale si può, l'imprenditore utilizzando la CNS o lo SPID o il token, quindi un'identità digitale certificata, può accedere ai dati attraverso il portale impresa.italia.it della propria impresa gratuitamente, anche in mobilità utilizzando lo smartphone. Cosa significa? Ad esempio, il nostro imprenditore è in banca, ha bisogno di, per una pratica di finanziamento, di un prestito, ha bisogno di presentare alla banca i dati ufficiali della propria impresa, detenuti dal registro dell'impresa, attraverso il cassetto digitale può accedere alla visura, scaricare la visura, girare alla banca, i bilanci, l'atto costitutivo, lo statuto della società e tutte le informazioni presenti nel registro delle imprese che riguardano la propria impresa. Hanno attivato il cassetto digitale dell'imprenditore circa il 20% delle aziende che fanno riferimento all'area della città metropolitana fiorentina. La Camera di Commercio di Firenze auspica un aumento cospicuo di questa percentuale. Quali sono gli strumenti e le modalità per accedere al cassetto digitale? Innanzitutto bisogna collegarsi a questo sito, a questo portale che si chiama impresa.italia.it digitando, per esempio su Google, l'indirizzo e cliccandoci. Quindi si accede, questa è la home page del sito, per entrare e si vede subito che bisogna utilizzare alcuni strumenti di identità digitale, o lo speed o la CNS che si può utilizzare attraverso la tradizionale smart card che viene fra l'altro distribuita agli imprenditori su appuntamento qui in Camera di Commercio, o il token digitale, anche in questo caso distribuito in presenza, anche in questa situazione di emergenza sanitaria, presso gli sportelli della Camera di Commercio. Il token ha un vantaggio rispetto alla CNS, può essere utilizzato in mobilità perché ha un collegamento wireless, quindi si può utilizzare attraverso lo smartphone. O lo speed, anche in questo caso la Camera di Commercio fornisce assistenza per il rilascio dello speed, che è completamente dematerializzato, uno degli strumenti che si utilizza usando dei codici particolari direttamente online. Cosa compare se si tratta di una società? In questo caso abbiamo l'esempio di un SRL, e qui c'è il contenuto subito evidente, la mia impresa, la visura, la visura dell'amministratore, la visura ordinaria e completa, visura in lingua inglese, come dicevo prima, l'atto costitutivo, nomina e conferma dell'amministratore, lo statuto. Poi abbiamo anche il registro delle imprese, quindi le pratiche, e questo è attivo anche qui in Toscana, le pratiche che sono in corso di istruttoria presso il registro delle imprese. Insomma, si sta facendo un bel salto di qualità utilizzando il digitale.